Vittoria sorprendente ma voluta, cercata e conquistata dall'Affert Sandonà nella seconda giornata di campionato di eccellenza. Dopo aver pareggiato in trasferta con il Mogliano Rugby, conquistando i primi due punti della classifica, ha affrontato un altro derby impegnativo contro Femmici Zeta Rugby, Rovigo Delta, una delle squadre più titolate del campionato, vice campione d'Italia, vincendo sui bersaglieri di fronte al pubblico di casa entusiasta che ha sostenuto la squadra punto dopo punto, oltre la linea del Piave e oltre la linea di meta. Un match molto combattuto ma condotto dai bianco-celesti che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio facendo meta condotta e macinando calcio dopo calcio il rosso-blu di Frati, che pur cercando la rimonta con un grande bassone dalla piazzola e due drop centrati, non sono mai andati in meta, trovando puntualmente l'invalicabile difesa sandonatese a ribattere ogni attacco. Una grande soddisfazione per gli uomini Wright ed Al-Sie e i quattro punti importanti che diventano d'oro contro una squadra come Rovigo, una vittoria che dimostra le potenzialità. La Huffert Rugby Sandonat, squadra non solo fastidiosa e pericolosa, ma una realtà d'eccellenza con cui dovranno fare i conti senza sconti tutti.